bella a tutti ragazzi io sono vol450 e io sono berta ok oggi siamo in minecraft nella ftb il pacchetto direwolf 20 1.7.10 non c'ho uso dammi quel semetto mi ricordo quali ne ho tanti quello normalissimo comunque ok si vedete una casa una casa bruttissima con un affare in obelisco in mezzo quello obelisco l'abbiamo trovato la casa l'abbiamo costruita perché all'inizio non avevamo intenzione di reccare esatto siamo ancora all'inizio abbiamo fatto una test giusto per far vedere vedere funghi talucinogeno abbiamo soltanto delle gran pegate esatto ma sto morendo aiuto se magari metti a cuocere c'è questo sacco ma cosa abbiamo quattro cosciocchi di pollo in questa puntata avevamo intenzione di andare a scavare quindi molto probabilmente ho velocizzo la puntata ooo non lo so no molto probabilmente ho velocizzo la puntata ehhh 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 che va che va beh erano si ho vedete per fortale yeay Ultima facciamo abbiamo hai con calma dice che va infip malhet Oh non si mi basso No, c'è il ferro uso No, mi chiamano i bugi Ma devi cercare il legno di qua Oh la stanza Ti ho fatto manca C'è una cosa C'è un giocciolino Perché non ho capito il pezzo tanto Non posso essere casciato Eh, hai guardato che l'altro con te Nel frattempo trovi un carbone Sì, carbone, è stato mancato di fuori Ehi, che stai facendo? Tutto sei zitto che è meglio No, è cazzo ferro No, c'è sì, lo trovo il ferro Eh sì, io Ma è di cazzo ferro Gold Eh Eh Eh, io sono male Un bagno Però sei camissimo Cazzo serve Ah beh, allora scusa Hai così cosiddetto la manca Ah Anche la stanza che non la farò mai E mai maniato molto C'è bellito 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 D'altro Sì, non c'è bellito C'è bellito C'è bellito Sì, è bellito C'è bellito C'è bellito C'è bellito a me si pari oggi inizia un po' di atto a 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 in a a a a a a c i a a i al RH ecco a chi è un mi sono sottisho di casa e mi nello come ti si andrò? ecco a mio due dal prima attegare per faglino oh mi passato copta cattò mi passato ma quando sei agitato? oh mio pio, vissi panni poissà ah tu che si che fai con su, eh? no, se non c'è un piccolo a scorrerti, non? eh, questa team è sembrata una roba non mi hai perso a sumare ... ... ... ... Quindi ho fatto il nostro cliente. Ok. 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 a Ma è così, ma cosa? Di qua è il mattello Il mattello Il mattello Che è il mattello? Oh Cos'è? Dai, non mi si fatti Mi pare sono giù, non mi si fatti Lo giù, lo giù Ok, lo giù Ah, lo volo sai? Ah, che livello? No, non so Sono pieno Oh, non mi scattoli Non mi fa, non mi fa, non mi fa Oh, non mi fa, non mi fa Ah, che fio, non mi fa, non mi fa Che non posso andare minimize Sebs Ti esame Ah, che fai A Que fai So, mi fai No, non mi si mitochondria Ascad dire che la c'è guarda che ci fai guarda anche la piccola subito è capitato questo silenzio non va bene ci vuole molta concentrazione preliminare attenzione mamma pigliacca ma le cose che dice hanno un senso wow ma che gliel'ha detto gold anche dell'oro compresso dentro l'algerino baxilino ho lagato il vuoto? no sono io con il lagato forse si tu chi lo sa smettere di darlo da ritorno no c'è il che tuono che c'è il che tuono no non c'è la vita vero no scusate ma si vengono la caverna? no io lo peso ma lo stai calmissimo perché se no non è andato in una parte ma io devo intervenire su la canata fare molto test e finire la puntata si dai finire la puntata io stavo no c'è la lora non puoi aver capito di un lagato no è lora oh è tu sei per la cazanza ti vengono la puntata io ti vengono la puntata io non lo so non lo so dai uomo vorrei dare di altre buone notizie ma non so non lo so ma non so dai uomo però no però ti vengono la puntata io mi si mi si mi si ma perché che sono perché è tanto strappi in la loro che ci intorno allora andrò suono uno oh si 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 ci sono ancora qua si si io che ci sono ancora di qua per blocse per blocse per blocse se non apro quante? allora suono uno due tre quattro cinque e sei davvero? allora io finisco qui la puntata in casetta uh si bo è quello che ho coltivato io non me lo rubare finisco la puntata dove sto andando qui ah non lo so mica io devi finirla sta puntata o pensi di davanti casetta ciao ciao belli